26 dicembre 1911, nasce a Bagheria in Sicilia il pittore italiano Renato Guttuso. Nelle sue opere compare tutto il calore e il colore della sua terra siciliana. Il limone, l'ulivo saraceno, diventano soggetti frequentemente amati dall'artista. Nel 1972 dipinge i funerali di Togliatti, che diventerà l'opera manifesto della pittura antifascista. Muore a Roma nel 1987. Maestro, io vorrei rivolgerle una prima domanda. Ritiene lei che l'artista debba crearsi intorno a sé uno studio, un ambiente proprio concreto, perché egli possa svolgere con più facilità il suo lavoro? Guardi, prima di tutto io vorrei che lei non mi chiamasse maestro, perché non sono un maestro e questa non è un'epoca molto ricca di maestri. In secondo luogo, un artista si crea sempre nel suo ambiente. Lo studio, in fondo, sono tre mura, tre pareti e una parete che manda la luce. Questo è lo studio. Una volta gli artisti avevano bisogno di una certa luce spiovente, in un certo modo, adesso queste cose non esistono più. Si può dipingere con la luce artificiale, si può dipingere con le lampade solari, si può dipingere con una forte lampada normale anche. Però un artista, in qualunque ambiente entri, si crea il suo piccolo mondo, che è un mondo di oggetti familiari, di strumenti di lavoro e anche di cose casuali. Io, per esempio, posso dire che ci sono delle cose nel mio studio che mi sono portate dietro sempre, da quando ero ragazzo. Una sedia, una coperta, qualche cosa a cui ci siamo affessionati e che fanno parte proprio del nostro piccolo magazzino. Ma, in fondo, dovunque vado, io ho avuto tanti studi, ho cambiato tanti studi nella mia vita, ho avuto studi belli, grandi, studi piccoli, scomodi, sotto scala, di tutti i generi. Io ho sempre avuto attorno le stesse cose e i miei studi si sono sempre assomigliati tutti. Arrivando al suo studio, ci siamo trovati di fronte a un ambiente barocco, un ingresso molto fastoso, ricco, movimentato. E ora vorremmo sapere da lei se questa scelta di sede sia scaturita da una necessità, diciamo, di carattere espressivo e quindi rientri nella sua particolare forma pittorica. Veda, non da una necessità. In fondo, il posto dove si abita è sempre un po' un caso. Però il caso non è mai solo un caso. Perché ci sono delle coincidenze. Non è che io ami particolarmente l'arte barocca, ma è molto curioso che io sia venuto ad abitare dentro Palazzo del Grillo e in questo appartamento di Palazzo del Grillo, che è un appartamento appunto dove ci sono delle decorazioni di tipo berniniano, sia nel giardino che lei ha visto fuori, sia nella sala accanto a questa. Ed è molto strano perché questo ambiente mi ricorda un ambiente molto familiare della mia infanzia, cioè la Villa Palagonia, a Bagheria, che è una villa a Roccoco. Molto bella e molto strana e che credo abbia avuto una influenza nella mia infanzia, durante la mia infanzia, nella mia formazione, per una certa educazione della fantasia. Grazie. Grazie.